DJ Action 2, prima prova sui sentieri. Siamo a Nazzano, oggi giro tranquillo, first half, second half, quindi la classica discesa flow di Nazzano, condizioni perfette, a parte il vento che ha raffreddato, la temperatura l'ha portata a valori più in inverno, perché fino all'altro ieri stava intorno ai 15 gradi, comunque sole pieno, sentieri asciutti, condizioni perfette per la nostra Mi-Proof Reactor 290C, un vestimento RS. Sbagliato! Eh sì, bello secco oggi, molto secco! E Nazzano non perdona né quando è umido né quando eccessivamente asciutto, come oggi. qua! 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 Anzi, sempre un'emozione! Ho scavato second half! qua! 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 anche qua secchissimo ovviamente nei punti umidi le pozze non mancano ma non ma 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 questo pezzo fa impazzire ogni volta se solo ci fosse un filo di spazio in più tra gli alberi ho sbagliato l'ingresso però va bene comunque eccoci qua alla fine second half, ottime condizioni approvato